Salve, sono il Turbo Siester. Oggi ti mostro come fare una Turbo Siesta di 15 minuti. Unico rimedio efficace contro la stanchezza al volante. Sappi che la prevenzione migliore è dormire abbastanza la notte. Inoltre, bisogna saper riconoscere i segni della stanchezza. Sbadigli, bruciore agli occhi, vista confusa, palpebre pesanti, bocca secca, sussultare senza motivo, sensazioni di freddo o errori di guida. Non appena compaiono i segni della fatica, cercati un luogo adatto per dormire e fermati per una Turbo Siesta di 15 minuti. Ecco, là c'è un parcheggio. Perfetto. Cosa ti serve per dormire? Un parcheggio sicuro, una sveglia per svegliarti dopo 15 minuti e, se vuoi, una o due bevande a base di caffeina da bere prima della Turbo Siesta. Perché la caffeina fa effetto solo 45 minuti dopo averla bevuta. Se sei stanco al volante, fai una Turbo Siesta di 15 minuti. Unico rimedio efficace contro la stanchezza al volante. Non dormire mai più di 30 minuti, altrimenti entri nella fase di sonno profondo. Utilizza la sveglia del cellulare. Per non essere disturbato, puoi ordinare una pen di porta su www.turbosiesta.ch. Alzare il volume della musica o aprire il finestrino mentre si guida non sostituiscono mai una Turbo Siesta. Se soffri di stanchezza cronica, consulta il tuo medico. Mi sento meglio! Bene, sono pronto a rimettermi in strada. 15 minuti di ritardo sono accettabili se si tratta di arrivare sani e salvi. Buon viaggio!